Che cos'è? Porta il sigillo dell'Unione Sovietica. E che vuol dire che è un documento ufficiale? È un documento. C'è un documento. C'è un documento ufficiale? C'è un documento? Ancora. ma questa non è la calligrafia di stalin come sarebbe a dire parla di stalin ma non è la sua calligrafia ah fantastico allora questo pezzo non vale niente era una giornata di festa e fu la mia prima sfilata in pubblico stavamo marciando lungo la piazza rossa e quando passammo vicino a lui il suo sguardo cadde su di noi come un improvviso caldo raggio di sole è il diario di una ragazza